Sabato 7 ottobre 2017, una data da segnare in rosso sul calendario, soprattutto su quello degli appassionati di ciclismo. L'appuntamento è con la classica delle foglie morte, il Giro di Lombardia, che quest'anno parte da Bergamo e arriva a Copa. Collegallo, Collebrianza, Chisallo, Muro di Sormano, Civiglio, Sanfermo della Battaglia. 247 chilometri e oltre 4.000 metri di dislivello positivo, sui quali si misureranno i corridori più forti al mondo. Aru, Nibali, Uran e il vincitore del Giro, Dumoulin, solamente per citarne alcuni. Il Lombardia è un pilastro, un monumento del ciclismo su strada, alterna partenza e arrivo tra Como e Bergamo. L'anno scorso i ciclisti erano partiti da Piazza Cavour, quest'anno invece i corridori arriveranno in volata sul lungolago di Como. E proprio l'ultima parte del percorso, gli ultimi chilometri comaschi saranno quelli decisivi. Tre anni fa mi è venuta la pazza idea, assieme agli amici di Como di invertire il Civiglio, perché prima lo si svaceva in discesa. Proviamo a capire un momentino se riusciamo a cambiare un momentino la dinamica della corsa e, dico la verità, è diventata una corsa nel finale più dura, però più emozionante anche per il pubblico. Sabato 7 ottobre quindi migliaia di appassionati potranno applaudire gli eroi del ciclismo. Il giorno successivo, domenica 8, potranno invece misurarsi sulle stesse salite, partecipando alla prima Gran Fondo Lombardia, 118 chilometri con le salite di Ghisallo, Sormano, Civiglio e Sanfermo. Quindi tutti possiamo il giorno dopo provare a misurarci sul muro di Sormano, sul Ghisallo e l'abbiamo fatto per tutte le categorie. C'è una bellissima manifestazione per allievi e juniores che parte da Como e arriva sul Ghisallo e che segue appunto la Gran Fondo Giro di Lombardia che è una corsa di 118 chilometri, 2400 metri di slivello, una corsa importante. La gara dei professionisti, il cui arrivo a Como è curato da Cento Cantù, garantirà al territorio lariano una visibilità mondiale. Sono sicuro che il ritorno mediatico sarà grandissimo. Stare un'ora e mezza in Mondovisione mostrando le bellezze del lago di Como, di Como città eccetera, penso che sia impagabile e sia il valore aggiunto all'avvenimento sportivo. Infine una parola di ottimismo per il futuro sul legame tra Como e Lombardia. Il Giro di Lombardia ha avuto negli ultimi quattro anni una base forte a Bergamo e a Como. La corsa è bellissima, abbiamo tutte le intenzioni, quindi ho detto che ci sederemo al tavolo e discuteremo per cosa fare per il futuro. Da parte nostra c'è totale e completa apertura.